Come da tradizione in occasione della ricorrenza di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti, si è tenuto il consueto incontro nell'Istituto di Scienze Religiose con l'Arcivescovo dell'Aquila, il Cardinale Giuseppe Petrocchi, l'Arcivescovo, coadiutore, Monsignor Antonio D'Angelo, il Presidente dell'Ordine dei Giornalisti d'Abruzzo, Stefano Pallotta. Un'occasione utile ancora una volta per parlare di comunicazione e informazione, nello specifico di intelligenza artificiale, uno dei temi che anche Papa Francesco di recente ha trattato. È fondamentale anzitutto precisare che non si tratta di intelligenza ma di strumentalità a servizio dell'intelligenza che è prerogativa umana perché il pensiero teso alla verità e la volontà di bene sono identità dell'uomo e non degli strumenti che crea. Si tratta ovviamente di assicurarsi che questi mezzi che hanno potenzialità grandissime possano essere messi in campo a servizio di una cultura che promuova una crescita integrale e integrata di tutti e di ciascuno. Occorre perciò vigilare la dimensione che bisogna tutelare sempre e proprio quella etica. Per il Presidente dell'Ordine dei giornalisti Stefano Pallotta, la professione dovrà convivere con i cambiamenti ma si pongono diverse questioni etiche. Bisogna dare un'interpretazione giusta a questa rivoluzione. Pone dei problemi etici ovviamente all'introduzione dell'intelligenza artificiale perché il lettore ha diritto di sapere se quello che legge è stato scritto da una macchina, da un algoritmo o è stato scritto da una persona. E questo credo che è una delle altre sfide che dovremo affrontare con i nostri editori e imporre loro di scrivere come oggi scrivono riproduzione riservata sotto gli articoli che escono sui giornali scritto da un'intelligenza artificiale o avere la firma di un giornalista. E credo che questo sia uno dei problemi etici che dovremo affrontare. Grazie a tutti.